ciao sono il dottor max in questo video ti spiego cosa causa la vista offuscata improvvisa la vista offuscata improvvisa può essere causata da diverse condizioni o situazioni ecco alcune delle possibili cause di vista offuscata improvvisa errore di rifrazione cambiamenti improvvisi nella vista possono essere dovuti a problemi di rifrazione come la miopia difficoltà vedere gli oggetti lontani l'ipermetropia difficoltà a vedere gli oggetti vicini o la stigmatismo distorsione della visione questi problemi possono insorgere improvvisamente o peggiorare nel tempo stanchezza o affaticamento degli occhi lunghe sessioni di lettura o l'uso prolungato del computer o di dispositivi digitali possono affaticare gli occhi causando vista offuscata temporanea irritazioni o allergie oculari allergeni ambientali o l'uso di cosmetici o colliri possono causare irritazioni o reazioni allergiche che portano a vista offuscata squilibri nella pressione intraoculare l'aumento improvviso della pressione intraoculare come nel caso di un attacco di glaucoma può causare vista offuscata e richiedere una tensione medica urgente disturbi vascolari alcuni disturbi vascolari come l'ipertensione o il diabete possono influire sulla circolazione sanguigna nell'occhio portando a vista offuscata distacco della retina questa è una condizione grave in cui la retina si separa dalla parete posteriore dell'occhio il distacco della retina può causare vista offuscata improvvisa e richiede una consultazione medica urgente emicrania oftalmica alcune persone con emicrania possono sperimentare una forma specifica di emicrania nota come emicrania oftalmica che può causare disturbi visivi temporanei tra cui vista offuscata infezioni oculari infezioni come congiuntivite o cheratite possono causare vista offuscata uso di farmaci alcuni farmaci in particolare quelli che influenzano il sistema visivo o causano secchezza oculare come effetto collaterale possono portare a vista offuscata corpo estraneo nell'occhio la presenza di un corpo estraneo nell'occhio può causare irritazioni vista offuscata poiché la vista offuscata improvvisa può essere un sintomo di condizioni gravi è importante consultare immediatamente un medico o un oftalmologo se si verifica una perdita improvvisa della vista una vista offuscata la diagnosi e il trattamento dipenderanno dalla causa sottostante ed è fondamentale affrontare il problema il prima possibile per evitare complicazioni grazie per avermi seguito fino a qui spero di esserti stato utile iscriviti al canale e metti un mi piace a questo video che puoi commentare raccontando le tue esperienze offrendo un servizio utile alla comunità buon proseguimento ci vediamo alla prossima domanda esaminata ciao a tutti ciao a tutti